Concessionari all'auto, a montagna in Valtellina. Si avvia a grandi passi, è il caso di dirlo verso la conclusione anche in provincia di Sondrio, la lunga stagione delle corse in montagna, da anni motivo di richiamo anche sul territorio valtellinese. Dopo il trofeo Vanoni, niente meno che 60 anni di storia sulle spalle, disputatosi lo scorso weekend, sabato 4 novembre torna ad animare il versante evitato sondriese la Valtellina Wine Trail, corsa giunta al suo quinto anno di vita. La presentazione ufficiale ieri sera, nel Salone dei Balli del Credito Valtellinese, dove organizzatori, enti locali e sponsor hanno illustrato il programma agonistico e gli eventi a corollario dell'appuntamento con il cronometro. La formula della Kermes non cambia, il percorso adatto anche ai moltissimi amatori, meno selettivo ad esempio del Vanoni, ha richiamato circa 2.000 iscritti. Fra loro i fortissimi della specialità, ma anche i molti che senza ambizioni di classifica coloreranno i terrazzamenti da Tirano fino a Castione. 42 chilometri il tracciato della Maratona, 21 per la Alp Marathon e 12 per chi invece partirà alle porte, si fa per dire di Sondrio. Ad accomunare i protagonisti e pubblico, con arrivo e festa come sempre in piazza Garibaldi, la passione per queste opportunità di sport all'aria aperta e a stretto contatto col territorio, nel caso specifico vigneti e cantine, sentieri su cui da sempre si passeggia, oltre che lavorare e si corre, ci si allena. Attività in crescita su tutto l'arco alpino, dove le località turistiche, non a caso, hanno sviluppato numerosi progetti di valorizzazione dell'ambiente e delle sue peculiarità, proprio in chiave ricreativa e promozionale.